Le voci che state sentendo sono delle persone che insieme a me stanno realizzando il disco che uscirà a novembre. Ci troviamo adesso a Los Angeles dove facciamo l'ultima fase del nostro lavoro. Abbiamo Mati. No, Mati, non si può fumare, lo sai che non si... No smoking at all. Ecco qua invece Alex pronto. Oggi abbiamo una riunione sul routing del tour e lui eccolo. Abbiamo il nostro amico Benini, nonché the manager of the year. Quello, Riccardo Benini vero, perché questo è vero. Guardatelo bene. In giro ce ne sono tantissimi di Riccardo Benini, ma... No, non c'entra niente con noi. Benini A, Benini 1. Lei è la nostra Rory che si occupa del travel book e sta controllando... Flight to Los Angeles. Noi siamo già appunto a Los Angeles aspettando i ragazzi che hanno vinto il concorso e Marzia... Lei è un po' la nostra clerici, la nostra... No, la prova del cuoco no. Vabbè, insomma, due cose proprio. Questo è il frigo. Io di tutto questo cosa posso mangiare? Niente. Adoro! Allora ragazzi... Tutta quella roba lì. Ah, è vero, c'è la mia dieta. Adoro la mia dieta. È straordinaria. Vabbè, non ve la faccio vedere. Vi evito i prodotti... Vabbè, le abbiamo raccontato tutte le nostre cose. Basta. Noi ci stiamo preparando per una riunione e nel stesso tempo... Vabbè, siamo tutti passi. Qua non si sa. Vuoi salutare? Metto le calze. Perché? Ho perso la valigia e quindi... Abbiamo anche avuto questa esperienza. Allora, baci a tutti da Los Angeles. Come vedete qua è bellissimo. Ci aspettiamo il meglio. Iniziamo il master e poi ci si vede prestissimo. Ciao! Ciao!